L'accelerata delle sue è il momento in cui cali un attimo l'attenzione che lui fa questa giocata e diventa imprendibile. Però il Barcellona è sempre lo stesso, ha dimostrato di essere la squadra ancora più forte, non di noi, ma a livello del Real Madrid e del Bayern Monaco. E noi stasera la squadra, rispetto a loro, abbiamo fatto secondo me una buona partita. Per quanto riguarda il mio futuro, devo pensare a vincere qualche partita e fare benissimo questa stagione, perché c'è il tempo ancora per fare bene in Champions, in Campionato e in Coppa Italia.